Una serata di gioia, di festa, quest'oggi qui all'ospedale Umberto I di Noscera Inferiore perché ci sarà la donazione dei proventi raccolti durante il periodo natalizio dalle grossissime iniziative che il Parco dell'amicizia in sintonia con il Rotary di Noscera a Pudmonte ma realizzato per un sorriso nell'ottica della solidarietà. Abbiamo avuto un cartellone che è passato dal presepe ormai monumentale a chicche di cabaret con Angelo Di Gennaro e tanti fondi, tanta generosità questa sera concretizzati qui. La somma raggiunta su più o meno che cifra si aggira e a che cosa servirà? Siamo intorno ai 5.000 euro, abbiamo acquistato una sedia di queste qua alle nostre spalle per l'echemio e tre pompe da infusioni. Sempre per l'ospedale o per il reparto pediatrico? Il reparto pediatrico, noi abbiamo prettamente strutturato un programma natalizio di 8 giornate che come tu dicevi prima andava da una mostra di presepi a 4 serate di mercatini con 3 serate di presepi vivente e queste 8 serate siamo riusciti a raccogliere questa somma di 5.000 euro. Ecco questo senz'altro è un tassello in più del parco dell'amicizia. Ricordiamo comunque che questa meravigliosa struttura si trova tra San Valentino Toro e San Marzano sul Sato. E Scafati. E Scafati e si occupa ed è presente non soltanto nel periodo natalizio. No, diciamo che siamo al centro dell'agronoceno sarnese e cerchiamo di occuparci di tutto. Laddove c'è bisogno noi cerchiamo di arrivare. Col presepe, con l'evento natalizio abbiamo sostenuto questo reparto pediatrico oncologico, abbiamo fatto altre manifestazioni a sostegno di cultura del territorio, abbiamo costruito un bagno in Africa in collaborazione con un'altra associazione e cercheremo di fare altre iniziative che possano e sviluppare il territorio e dare un sostegno a chi ne ha bisogno. Parco dell'amicizia, il nome dice tutto, dice tanto perché è costituito da varie persone e anche da alcune presenze immigrati. Certo, noi siamo tutti amici, da qui nasce la parola parco dell'amicizia, siamo multietnici, si può dire, ci sono ragazzi rumeni, ragazzi ucraini, ragazzi senegalesi di varie religioni, siamo cattolici, musulmani, ortodossi e addirittura atei. Noi abbiamo prettamente strutturato un programma natalizio di otto giornate che, come tu dicevi prima, andava da una mostra di presepi a quattro serate di mercatini con tre serate di presepi vivente e in queste otto serate siamo riusciti a raccogliere questa somma di 5.000 euro. Ecco, questo senz'altro è un tassello in più del parco dell'amicizia. Ricordiamo comunque che questa meravigliosa struttura si trova tra San Valentino Toro e San Marzano sul Sato. E Scafati. E Scafati e si occupa ed è presente non soltanto nel periodo natalizio. No, diciamo che siamo al centro dell'agronoceno sarnese e cerchiamo di occuparci di tutto. Laddove c'è bisogno noi cerchiamo di arrivare. Col presepe, con l'evento natalizio abbiamo sostenuto questo reparto pediatrico-oncologico, abbiamo fatto altre manifestazioni a sostegno di cultura del territorio, abbiamo costruito un bagno in Africa in collaborazione con un'altra associazione e cercheremo di fare altre iniziative che possano e sviluppare il territorio e dare un sostegno a chi ne ha bisogno. Parco dell'amicizia, il nome dice tutto, dice tanto perché è costituito da varie persone e anche da alcune presenze immigrati. Certo, noi siamo tutti amici, da qui nasce la parola parco dell'amicizia, siamo multietnici si può dire. Ci sono ragazzi rumeni, ragazzi ucraini, ragazzi senegalesi di varie religioni, siamo cattolici, musulmani, ortodossi e addirittura atei. Diverse le estrazioni sociali sono sia dal fabbro, dall'artigiano, dal commerciante, dall'imprenditore, all'avvocato, al dottore. Tutti possono accedere a questa associazione, tutti possono far parte di noi e insieme possiamo vincere tante battaglie. Diciamo che il parco dell'amicizia comunque ha una caratura soprattutto religiosa, c'è una statua enorme nel suo interno su questo grande spiazzale che è quella della Vergine di Lourdes. Sì, noi siamo diciamo di estrazione cattolica e la sede proprio della nostra associazione si trova tra San Marzano e Scafati, in un parco di 5.000 metri dove c'è un obelisco con sopra predisposta una stata della Madonna di Lourdes. E' lì che noi ci vediamo. E' mai la Madonna di Lourdes? Eh diciamo che è una chicca del Presidente. Io sono molto devoto alla Madonna di Lourdes e quindi ho voluto realizzare questo parco. Siamo con il Dottore Raffaele De Santis, il Presidente del Club Rotariano Apu du Montem di Nocera Inferiore. Un momento di gioia, di entusiasmo sempre nell'ottica della solidarietà perché questa brillante iniziativa ha registrato ovviamente anche l'attenzione fattiva, concreta del Club Rotariano. Certo, tenete presente che qualcosa che è partito sei mesi fa quando durante le feste di Natale abbiamo collaborato e lavorato insieme al Parco dell'amicizia. Il ricavato di quello che noi abbiamo sponsorizzato verrà donato stasera per un'apparecchiatura, quindi in questo caso che verrà utilizzata nella unità operativa complessa di pediatria, la quale ha un bacino di utenza molto grosso, tutti i bambini praticamente oncoematologici raggiungono la nostra città e quindi cerchiamo di offrire un piccolo servizio, di migliorare il servizio sul nostro territorio. Ricordiamo anche la campagna delle vaccinazioni voluta fortemente dai Rotari, a che punto siamo? Siamo ad un ottimo punto, si dice che manca così, significa che l'ultima nazione che abbiamo vaccinato contro la pedomilite è la Nigeria. Qualche giorno fa ci è arrivata questa notizia. Tenete presente che il Rotari non fa elemosina, non fa beneficenza, fa servizio, qualcosa di molto più profondo e molto più insito nella società stessa, nel popolo. Cerca di aiutare con azioni volontarie e di forza, senza però regalare denari utilmente. Possiamo anticipare qualche iniziativa per l'estate? Certo, questa estate sicuramente andremo ancora una volta a visitare quelli che sono i nostri intorni, con il proposito di far conoscere alcune antiche eredità, quali sono quelle delle cartiere amalfitane, ma soprattutto quella di domenica prossima, dove noi ci dedichiamo presso lo studio della Porta alla Domenica della Salute. Sarà dedicata integralmente alle donne e il 7 giugno noi abbiamo già prenotato qualcosa come 40 visite di tutte persone che sono profughi e migranti, sono migranti che passano attraverso il nostro paese, la nostra città e quindi richiedono delle cure almeno minime per poter sopravvivere. Abbiamo accennato alla Divina Costa, la produzione tipica è il limoncello, ormai il nostro limoncello in ogni stagione dell'anno viene esportato un po' ovunque. I Rotary a riguardo? Faranno sicuramente la solita festa dei Limoni, dove l'anno scorso abbiamo mandato un'apparecchiatura radiografica in Nicaragua. Quest'anno penso che se riusciamo a raggiungere una cifra abbastanza grossa costruiremo in Honduras un serbatoio per l'acqua che servirà a quattro cliniche di cui una è una clinica pediatrica nella città più importante. Limoncello a tutta forza. Limoncello a tutta forza, mi raccomando delle nostre parti e guardate dove viene fatto questo limoncello, soprattutto in Campania. Dottore Raffaele Fedaioli, onorevole Guido Milanese, anche voi questa sera qui in questo momento di gioia. Nei confronti del servizio sanitario ma di tutti i servizi, in quanto questo oltre a dare un contributo sostanziale all'arricchimento di tecnologie, di servizi ed altro, comunque comporterebbe un'attenzione che stimolerebbe senz'altro ad un miglioramento continuo dei servizi. Diciamo un poco quello che poi accade, se vogliamo, in altre zone anche del nostro paese. Ci riferiamo al nord, in cui i cittadini sono più attenti alla qualità dei servizi. Noi al sud siamo un poco più distratti nei confronti della qualità dei servizi, salvo poi a bestemmiare, a diventare violenti quando ci capitiamo e ne constatiamo l'inefficienza. Onorevole Milanese, l'infanzia, chi più di lei, nello suo ruolo anche di neuropsichiatra, spesso è a contatto appunto con i minori, con i bambini e soprattutto lei che è anche referente, autorevole per il terzo settore, non può che applaudire ad un'iniziativa del genere? Assolutamente sì, abbiamo seguito l'iter da lungo tempo del Rotary di Nocera che sta avendo iniziative di grande prestigio e di grande rilievo anche dal punto di vista umanitario. Ebbene, devo dire in modo particolare, quando le istituzioni non sono presenti in maniera totale, è giusto che parallelamente le organizzazioni di servizio si prestino a contribuire, quindi ad entrare in gioco con tutto il loro spirito di disponibilità, di volontarietà e quindi anche di accoglienza delle istanze per fornire servizi adeguati anche attraverso strumentazioni. Io ritengo che oggi è una giornata particolare, il reparto pediatrico si avverrà, oncologico si avverrà oggi di nuove iniziative strumentali che possono naturalmente alleviare tutto ciò che rappresenta la sofferenza di questi bambini. Deve essere una pietra, ma una pietra miliare per quanto riguarda nuove iniziative che naturalmente andranno nella stessa direzione. Un plauso agli organizzatori di questa cosa. Iniziamo con loro? Sì. Angelo Di Gennaro, il big, il pezzo forte in questo cartellone natalizio del Parco dell'amicizia e non solo a Natale. Conosciamo la tua solidarietà, conosciamo la tua sensibilità soprattutto per l'infanzia e conosciamo il tuo cuore generoso. Stasera siamo arrivati qua. Sei contento finalmente di poter donare il frutto di tanti proventi natalizi? Intanto io sono una piccola parte, chi è il promotore e chi ha avuto questa bella iniziativa è Pietro Biaggio, ma fa Pietro Biaggio che mi ha dato la gioia di potermi sentire utile. a maggior ragione poi all'interno di una struttura ospedaliera sapere poi di concludere questo percorso natalizio è la concreta soddisfazione di sapere dove seriamente mi hanno questi proventi. Questo ospedale in questa giornata non mi ha dato la sensazione di trovarmi in un ospedale perché c'è quel sorriso, c'è quella gioia, c'è la presenza degli amici di Pietro e tutti quelli che si sono resi partecipi di questa iniziativa c'è la gioia. Vedete i luoghi li facciamo diventare noi tristi o allegri. Un ospedale con delle belle anime e con delle gioie nel cuore e con il sorriso può diventare una struttura molto accogliente che dia anche la serenità al malato. Angelo senti ma questo palco dell'amicizia è così affreddo una tua battuta che te ne pare? Una banda di amici? Una banda di amici ma oltretutto consapevoli non lo so ma faticavano senza rendersi conto fino a notte nottrata dopo aver lasciato il proprio lavoro. Io non lo so se Pietro li minacciava però so solo che lo facevano con grande gioia. è una sera devo dire la verità. Lui pensò di regalarmi o meglio farmi assaggiare i cosiddetti galli trip ma hanno detto manco valli trip o bene o musso del maiale che non si butta niente. E devo dire la verità manco tempo di arrivare che tutti gli operai che stavano lavorando, manco tempo di distrarre, non c'è niente di più. Stavano mangiando tutto cosa. Affamati, affamati ma perché lavorano e non si rendono manco conto che si è fatta tarda. Lavorano con la gioia, con il piacere ma questa è la forza di Pietro. Io mi sono innamorato di lui per la sua semplicità, per la straordinaria forza che ha. Io l'ho guardato negli occhi, ho guardato lui e Carmelo e Nasir, non mi ricordo niente ma io piangevo e non capivo perché, ma sapevo qualcosa che stia succedendo dentro di me. Pietro, stasera c'è chiaramente tutta la famiglia rotariana e l'intero parco dell'amicizia per consegnare questi proventi qui all'Umberto I di Nocera. Come ti senti? Emozionato? La lacrimuccia la scorgiamo nel tuo sguardo? Sono emozionatissimo, non emozionato. Il discorso è questo, dopo queste belle parole di Angelo c'è poco da aggiungere. Io ci teniamo molto a questa serata perché questa serata è la concretezza, questa serata è non aver fatto chiacchiere per diversi mesi, stare qui stasera a consegnare il frutto del lavoro di più di 50 ragazzi, 50 persone che la notte dopo il lavoro, come diceva Angelo, hanno lavorato, hanno faticato per regalare un sorriso. Ne abbiamo regalati tanti in questo percorso, ci siamo emozionati più di una volta, come stasera, però la serata di questa sera è il sigillo alla concretezza del nostro lavoro. Carmela, anche tu gioiosa, anche tu sorridente e con questa lacrimuccia? Sì, stasera abbiamo realizzato, abbiamo dato vita ai nostri sogni e ai nostri sacrifici, abbiamo dato vita a tutto quello che avevamo in mente e soprattutto la solidarietà ha preso forma nella complicità, nella solidarietà non solo delle persone, del popolo comune, delle persone che lavorano ma anche delle persone che credono e valorizzano le risorse umane, qual è il club Rotary a livello internazionale che ha sposato le idee, i talenti e i valori che vivono nelle persone vere, nella gente comune ma nella gente che ha la concretezza dei sentimenti e della realtà. Onorevole Milanese, solidarietà sempre, non solo a Natale. Assolutamente, io riprendo l'innamoramento di cui parlava Angelo Di Gennaro, di cui io in qualche modo sono stato artefice perché diciamo da sempre sono vicino a queste loro iniziative, anch'io mi sono innamorato del primo momento. Io credo che l'amore sia il vero tema portante di questa serata. In un momento in cui c'è il fermento elettorale, le piazze sono agitate per queste votazioni, io credo che la migliore piazza sia questa questa sera. L'espressione veramente della solidarietà, dell'amore ritengo che dovrebbe in qualche modo invadere gli animi cuori indipendentemente poi dalle contese elettorali che sono soltanto momenti assolutamente di rappresentazione ma debbono essere assolutamente arricchite dai significati che questa sera si respirano qui. Capo, tra virgolette, della famiglia rotariana Abud Montem, questa sera non poteva non applaudire a questa iniziativa che l'ha vista trionfante insieme al Parco dell'Amicezza. Certo, un'avventura cominciata sei mesi fa durante le feste di Natale dove dei volenterosi hanno messo a disposizione la loro opera e noi abbiamo cercato di collaborare con loro dando il patrocinio a questa, diciamo così, grossa, questo onlus che sta cercando di aiutare il nostro territorio. Accenniamo pure all'iniziativa estiva, velocissimo, proprio in 30 secondi. Oddio, certamente, noi l'anno scorso abbiamo inviato apparecchiature radiografiche che sono arrivate in Nicaragua e quello che noi andremo a fare tra poco è costruire un acquedotto con un serbatoio in Honduras che servirà 4 ospedali e quindi circa 40.000 persone cercando appunto non solo nel nostro territorio di poter intervenire ma nel mondo intero perché il Rotary come sapete è un'associazione internazionale apartitica che non ha assolutamente alcuna religione se non tutte le religioni del mondo.